Che tipo di pulmino è questo? È un pulmino 9 posti, attrezzato proprio per le persone disabili, quindi con una pedana elettrica alla parte posteriore per poter caricare fino a 3 caroselle. Quindi chiaramente se ci sono 3 caroselle i posti a sedere sono solamente 6. Attrezzato con l'apertura da tutti e due i lati, di modo che si dovesse scendere qualche d'uno perché non può scendere da un lato, è comodo anche con l'altro. Oltretutto è ecologico in quanto ha già incorporato ed è nato con l'impianto di metano e di conseguenza consuma per bene e il costo è anche inferiore. È creato proprio per queste necessità. Non è l'unico che avete sul territorio, voi siete proprio una cooperativa? Sì, noi lavoriamo in tutta l'Italia sidenzionale, abbiamo già 120 mezzi sulla strada di tutta l'Italia sidenzionale. In Liguria questi 3 comuni sono praticamente al quinto posto come i comuni già fatti, adesso aspettiamo la risposta di Busalla che dovrebbe anche lei aderire. Finito uno, chiediamo gli altri tra l'altro la voce corre in quanto il servizio piace ed è necessario averlo e diversi comuni ci chiedono appunto di poterlo fare e di aderire. Siamo contenti proprio perché è lo spirito di partecipazione dei commercianti, artigiani e dei piccoli imprenditori che ci portano al risultato.